Predati per mesi, oggetto di furti e saccheggi, in un caso come per la Scandiuzzi Steel Construction SPA, addirittura per 17 volte negli ultimi due anni, tanto da indurre il proprietario a dichiarare l'intenzione di lasciare Brinisi per ritornare in Veneto. Furti e razzie, come scoperto dagli investigatori della mobile, grazie alla compiacenza di uno dei dipendenti a fornire all'organizzazione tutte le indicazioni necessarie per entrare senza problemi nel capannone di Viale Enrico Fermi. La Scandiuzzi, come la Montego, la Eco Power, la Fiat Avio, la Puli Energy o ancora l'Advanced Control System o la Technogal Service, la Team ESPA o la Ital Italiana SRL, tutte messe in ginocchio dall'azione criminale di altri imprenditori operativi nel settore dell'indotto e diventati mandanti di furti, mettendo a disposizione della banda persino i mezzi da utilizzare nei colpi. imprenditori conosciuti, come Antonio Cannone, proprietario di una ditta di demolizione, o come Giacome Arcangelo Urso, titolari di un'azienda di recupero materiali, e con loro dipendenti, uno dei quali impiegato presso l'Istituto di Vigilanza Alma Roma di Lecce, a rendere il furto un gioco da ragazzi. Enorme il danno economico provocato alle ditte dai continui raid, 450 quintali di rame rubati, di cui 120 recuperati, e ancora mezzi, materiali, attrezzature industriali, gruppi elettrogeni, batterie, campi fotovoltaici, in alcuni casi persino smantellati.